Buonasera e ben ritrovati con lo spazio meteo. Dall'immagine del satellite si nota come la depressione semistazionaria sull'Inghilterra continua ad essere alimentata da aria fredda che scende dall'Islanda verso l'oceano atlantico e allo stesso tempo da aria calda che dall'Africa sale verso l'Italia. Questa situazione permarrà anche nei prossimi giorni. Ci sarà un'attenuazione del caldo nella giornata di mercoledì e parzialmente in quella di giovedì ma da venerdì e sabato avremo una nuova pulsazione di aria calda soprattutto nella giornata di venerdì con caldo molto intenso e forno africano praticamente sulle nostre teste. Situazione che andrà a migliorare solamente da domenica quando l'aria più fresca proveniente dalla stessa depressione si spingerà più verso est e dunque l'aria calda traslerà verso i Balcani liberando l'Italia. Andiamo a vedere adesso le previsioni del tempo per domani martedì 11 giugno. Abbiamo indicato sole e AFA dunque avremo principalmente una situazione soleggiata con nuvole principalmente stratificate che insisteranno sui monti ma potranno arrivare anche nei fondovalle collinari e lungo le coste. La ventilazione sarà debole da brezza e i mari calmi. Le temperature vedete molto alte e comprese tra 13 e 18 gradi per quel che riguarda i valori minimi 28 32 per quel che riguarda i valori massimi. Abbiamo detto che la situazione termica persisterà fino almeno a domenica con un miglioramento quindi più fresco nella giornata di mercoledì e la prima parte di giovedì ma molto più caldo poi per quel che riguarda venerdì e sabato quando avremo una fiammata africana abbastanza intensa che ci porterà a temperature intorno ai 35 gradi. Grazie della cortesa attenzione una buona serata a tutti voi da Pierluigi.